Buonasera signore e signori, sono Ace88, benvenuti con l'undicesima parte della nostra guida a Pokémon rosso è la seconda volta che faccio quest'intro anche perchè stavo appunto registrando quando ad un certo punto, ero a tre minuti di video, a un certo punto ho premuto un tasto e mi si è spento praticamente il tutto e quindi non ho, cioè mi si è spento il tutto ho chiuso praticamente l'emulatore e la registrazione, non so come ho fatto con qualche tasto magico e quindi dobbiamo ripetere tutto quanto vabbè, ha fatto qualche pezzo, non vi preoccupate che erano soltanto due o tre allenatori comunque sia, quest'oggi siamo qua all'interno di questo tunnel appunto che ci riporterà, perchè ho fatto turbine e non ne ho idea verso... verso la Vandonia perfetto, questa muassa è fuori uso verso la Vandonia e affronteremo un po' di allenatori ovviamente è una cosa abbastanza sdrogheggiante e dato che è abbastanza noiosa utilizzerò la super velocità perchè veramente, se no qui ci si sta fino a doma all'altro ok, perfetto proseguiamo di nuovo finito l'effetto del repelente era un po' che non registravo, come vi stavo dicendo nella vecchia parte che però voi non avete ascoltato era un po' che non registravo per ovvi motivi per via del lavoro per via che comunque sia non sono sempre disponibile ora che si va sull'estate insomma uno magari esce il giorno, pomeriggio, la sera quindi non è che può stare onnipresente a registrare guide eccetera eccetera quindi quando posso o vi faccio qualche unboxing come potete succedere per Black Ops che ci ho giocato una volta solo da quando l'ho preso il giorno stesso e poi basta ma insomma non è che ci gioco tantissimo e veramente quando sto a casa o è il tempo di cambiarmi perchè esco o poco altro insomma è normale però insomma cercherò di caricare un po' più di parti ci provo almeno non vi prometto niente sarà abbastanza difficile ora che andiamo ancora di più sull'estate però dai, spero di farcela comunque sia vedete che sto skippando veramente tanto questi allenatori perchè addirittura quando giocavo nel Gameboy normale, nel Gameboy e nel Gameboy Color queste parti qua, questa parte qua io la facevo sempre senza l'MT di Flash e ovviamente, vabbè, senza registrare rovia ma affrontandosi tipo gli allenatori chi si è partita da se solo, il visual non facevo attenzione che io tanto mi ricordavo il percorso alla memoria e quindi non c'era manco divertimento e lo facevo tranquillamente quindi è normale che lo sto skippando anche perchè insomma dopo un po' viene anche a noia rifare sempre i stessi percorsi ho visto che è uscito il trailer per far spazio, ah, ritirata, no è uscito il trailer di Rubino e Zafiro i due remake e ho visto anche che saranno ovviamente un'esclusiva per ora ve lo dico per Nintendo 2DS e 3DS e quindi questa cosa un po' mi scoccia perchè non potrò probabilmente fare nemmeno di quelle le guide speravo che insomma un emulatore uscisse ma per ora non se ne vede non se ne parla anche perchè è una cosa abbastanza sdrogheggiante fare un emulatore in 3D anche se non fosse però che legge queste ROM un mio amico mi ha detto che lui l'aveva trovato ci ha giocato tra l'altro solo che ha un mio amico che viene a scuola con me un mio compagno di classe quando andava a scuola mi ha detto che lui ce l'aveva questo emulatore gli funzionava anche tra l'altro bene e però ha dovuto resettare il computer e ci ha pensato dopo a dirmi se volevo utilizzare quel insomma se volevo utilizzare quei strumenti per registrare qualche video perchè non si ricordava se continuassi ancora a fare delle guide però purtroppo l'ha cancellato non c'è modo nemmeno di prendere mi ha detto guarda io ti presterei anche il mio il suo Nintendo 3D per registrare il problema che lui sta da tutt'altra parte sta vicino Firenze io sto a Rezzo quindi sono due cose abbastanza opposte comunque si abbiamo superato adesso il tunnel siamo arrivati alla Vandonia e andrò un secondo al Pokémon Market faccio gli ultimi acquisti e poi ritorno subito ok allora ho fatto qualche acquisto ho comprati i revitalizzanti le Megaball e qualche superpozione a questo punto non andiamo alla torre Pokémon tanto ora come ora non c'è niente da fare ci spostiamo verso sinistra e andiamo ad affrontare altri allenatori perchè oggi ne abbiamo affrontati pochi e tra l'altro l'unica cosa che mi scolcia di questo gioco in preciso è che ovviamente non si possono portare più di un tot di strumenti e quindi sei costretto sempre a rivendere gli strumenti cioè una cosa che veramente io penso che sia la più inutile a Nintendo su questo non so il perchè cioè ha lasciato che non puoi portare un determinato quantitativo di strumenti ma il perchè non si sa boh ok eh Cadabra verrà mandato KO presto perchè è stato avvelenato e non c'è voglia di riandare a curarlo oramai volevo affrontare questi allenatori e poi nella prossima credo che possiamo andare a affrontare direttamente Erika così almeno ci troviamo ci troviamo togliamo il pensiero e in quella dopo andiamo ad affrontare tutto il Team Rocket buono facciamo così ok PG8 viene mandato KO PG8 non è il massimo degli aiuti invece Cadabra si sta rivelando veramente un un distruttore Kofing qua che è ancora lo sprite vecchio che in realtà il simbolo del veleno dovrebbero avere di sotto in realtà qui ce l'ha di sopra ma vabbè non si sa com'è mai allora qua mi sembra che ce n'era un altro da affrontare gli allenatori o forse più punti vediamo forse lui esatto quindi la parte ragazzi sta per terminare manca veramente poco è terminata come al solito vi dico votate commentate iscrivetevi quello sempre se non l'avete già fatto world 8 sta arrivando dei livelli assurdi intanto gli altri sono ancora abbastanza indietro magari cercherò anche di liberlarli fuori fuori video votate commentate iscrivetevi un ciao ciao ragazzi